In questo video introduciamo il concetto di fattoriale di un numero e studieremo tramite Fologoridem come implementare il fattoriale di un numero. Cosa si intende per fattoriale di un numero? Beh, fattoriale di un numero non è nient'altro che, ad esempio, 2 fattoriale, e si indica con un punto esclamativo, l'operazione di 2 per 1, cioè 2. 3 fattoriale sarà 3 per 2 per 1, cioè 6. Quindi 4 fattoriale sarà 4 per 3 per 2 per 1, cioè 3 per 4 è 12, per 2 è 24, e via dicendo. Quindi, in generale, avendo un numero, il fattoriale di un numero non è nient'altro che il numero stesso moltiplicato per il numero meno 1, il numero meno 2, il numero meno 3, fino ad arrivare all'uno, all'unità. 0 fattoriale è uguale a 1. Quindi questa, diciamo, è l'operazione del fattoriale e quello che vogliamo fare è capire come realizzare un algoritmo per implementare, appunto, il fattoriale di un numero, il calco di un fattoriale di un numero. Per fare questa operazione utilizziamo il tool Fologoridem, pertanto andiamo direttamente qui nel nostro ambiente e cominciamo a vedere come realizzare questa funzionalità. Allora, ingrandiamo un po' lo schermo, perfetto. Dunque, dobbiamo chiedere sostanzialmente all'utente di inserire un numero, pertanto cominciamo subito con fare una domanda, scriviamo scrivi il numero e lo mettiamo tra virgolette perché sappiamo che dobbiamo mettere tra virgolette il tutto. A questo punto leggeremo il numero che viene inserito dall'utente, quindi faremo lettura e supponiamo che la nostra variabile la chiamiamo num e quindi coerentemente andiamo a dichiarare la variabile num. Ok, abbiamo detto che in base a quanto scritto qui dobbiamo eseguire un'operazione di moltiplicazione del numero stesso per il suo numero meno 1, numero meno 2, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'unità. Pertanto, come possiamo realizzare questa operazione? Beh, sostanzialmente dobbiamo avere intanto una variabile che ci rappresenta il calcolo che stiamo effettuando, quindi andiamo a dichiarare un'altra variabile che chiamiamo ad esempio fattoriale, oppure possiamo chiamare risultato, chiamiamola risultato e inizialmente questa variabile risultato sarà uguale a che cosa? Beh, abbiamo detto che in base al flusso, siccome 0 fattoriale è 1, sicuramente diciamo il valore che ci interessa inizializzare potremmo settarlo direttamente a 1, quindi risultato mettiamo 1. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente fare un'operazione ciclica, quindi dobbiamo risvedere per un certo numero di volte, cioè fino a quando non arriviamo a 1, che cosa? Allora, mentre, ok, lo facciamo dopo questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un'operazione di moltiplicazione, cioè fatto il risultato è uguale a che cosa? Ha risultato per, la moltiplicazione si indica con il simbolo dell'asterisco, per che cosa? Per il numero stesso e decrementare il numero di 1, quindi numero è uguale a numero meno 1, cioè cosa stiamo facendo sostanzialmente? Stiamo dicendo, dato un numero, questo numero lo dovremo moltiplicare per il risultato, che per il momento è pari a 1, dopodiché una volta che è stato moltiplicato decrementiamo il numero, in modo tale che all'iterazione successiva il risultato sarà moltiplicato per il numero meno 1, poi sarà moltiplicato per il numero meno 2 e via dicendo, e questo dovrà essere fatto fin tanto che il numero è maggiore di 1, cioè fin tanto che non arriviamo a 1, dobbiamo eseguire questa operazione qua. Nel momento in cui non avviene più questa uguaglianza, dobbiamo uscire fuori da questo ciclo e quindi possiamo mettere direttamente una scrittura del risultato, quindi il risultato è, e qui possiamo mettere direttamente risultato con le commerciale. proviamo a verificare effettivamente se il tutto funziona correttamente, quindi andiamo ad eseguire, ok, scrivi il numero, proviamo con un 2. Oh, qui ho sbagliato perché l'operazione non doveva essere scritta, la concatenazione con la variabile non doveva essere la percentuale ma doveva essere le commerciale, quindi correggiamo, perfetto. 2, il risultato è 2, effettivamente avevamo detto che il fattoriale di 2 era esattamente 2. Proviamo con il fattoriale di 3 a questo punto, quindi rieseguiamo il nostro algoritmo e il risultato effettivamente è 6, come avevamo individuato in precedenza. proviamo con 4 e vediamo se il risultato a questo punto è 24, quindi rieseguiamo il tutto e proviamo con 4. Il risultato è 24. Andiamo a dare un'occhiata effettivamente alla finestra delle variabili, proprio per verificare effettivamente che tutto quanto sia coerente con quello che stiamo facendo. Quindi andiamo a eseguire, se il numero è 3, abbiamo che, vedete, il decremento del numero è arrivato fino a 1 e quindi arrivando fino a 1 possiamo proseguire con la visualizzazione del risultato. Quindi c'è coerenza con quello che abbiamo fatto. Se provassimo con lo 0, otteniamo 1, quindi effettivamente abbiamo coperto tutte quante le casistiche. Quindi questa è la realizzazione tramite flogoridem dell'algoritmo per il calcolo del fattoriale.